È un caso stranissimo che proprio un problema fra i più astrusi ed insoliti della mia lunga carriera professionale mi sia capitato sott'occhio dopo il mio ritiro a vita privata e, per così dire, letteralmente davanti alla porta di casa mia. Il fatto avvenne dopo che mi fui rinchiuso nella mia casetta del Sussex, quando avevo ormai deciso di dedicarmi completamente alla serena contemplazione della natura, alla quale avevo tante volte aspirato durante i lunghi anni spesi in mezzo alle brume londinesi. A quell'epoca il buon Watson si era fatto quasi irreperibile. Al massimo lo vedevo ogni tanto per un fine settimana e devo quindi essere il cronista di me stesso. Se solo fosse stato al mio fianco, cosa mai sarebbe riuscito a tirar fuori da un'avventura così incredibile e del mio trionfo finale. Stando però le cose come stanno, dovrò raccontare la storia a modo mio, indicando ogni mio passo lungo l'arduo cammino che mi si apriva davanti mentre cercavo di scoprire il mistero della criniera di leone. La mia villa è posta sul pendio meridionale dei Downs e domina un vasto tratto della manica. In questo punto la linea costiera è tutta disseminata di scogli gessosi e si può scendere al mare soltanto percorrendo un unico sentiero lungo e tortuoso, oltre che ripido e sdrucciolevole. In fondo al sentiero vi è ancora una distesa di un centinaio di metri, tutta ciottoli e ghiaia, sempre scoperta, anche quando la marea è al suo culmine. Qua e là, insenature e piccole anse offrono splendide piscine naturali, riempite di fresco ogni volta che torna all'alta marea. Questa stupenda spiaggia si stende per vari chilometri in ogni direzione, tranne che in un punto, dove il littorale è interrotto dalla minuscola baia e dal villaggio di Fullworth. La mia è una casa solitaria. Io, la mia anziana governante e le mie api abbiamo il luogo tutto quanto per noi. A un mezzo meglio di distanza, però, sorge il famoso centro di addestramento di Harold Stackhurst, The Gables, molto grande, dove qualche dozzina di giovani si prepara per varie professioni sotto la guida di molti insegnanti. Lo stesso Stackhurst, a suo tempo, era stato un noto canottiere dei blu e un uomo di vasta istruzione. Siamo sempre stati amici dal giorno in cui arrivai ed era l'unica persona con la quale avessi un rapporto tale per cui, la sera, potevamo capitare l'uno a casa dell'altro senza bisogno di invito o di preavviso. Verso la fine del luglio del 1907 vi fu una violenta tempesta, con il vento che soffiava sulla manica scaraventando le onde alla base delle scogliere e lasciando una vera e propria laguna quando si ritiravano. La mattina di cui sto parlando il vento si era placato e tutta la natura appariva fresca e lavata. Impossibile lavorare in una giornata così splendida e prima di colazione andai a fare due passi per respirare quell'aria balsamica. Mentre percorrevo il sentiero ripido che dalla scogliera porta alla spiaggia, mi sentii chiamare e dietro di me c'era Harold Stackhurst che agitava allegramente la mano in cenno di saluto. «Che mattina, signor Holmes! immaginavo che sarebbe uscito!» «Vedo che ha intenzione di fare il bagno!» «Sempre i suoi vecchi trucchi!» disse ridendo e accarezzandosi la tasca rigonfia. «Sì, McPherson si è messo in moto presto e credo che lo incontreremo da queste parti!» Fitzroy McPherson era l'insegnante di scienze. Un bel giovane intelligente, la cui salute era però menomata da un disturbo cardiaco contratto in seguito ad una febbre reumatica. Era tuttavia un atleta naturale ed eccelleva in ogni sport che non lo costringesse ad uno sforzo eccessivo. Nuotava d'estate ed inverno e poiché sono anch'io un nuotatore, mi univo spesso a lui. E proprio in quell'attimo ci troviamo davanti a McPherson. La sua testa spuntò al di sopra della corona di scogli nel punto in cui attermina il sentiero. Apparve quindi in tutta la sua persona e barcollava come un ubriaco. Un istante dopo alzò le braccia e lanciando un grido terribile cadde prono a terra. Ci separava una distanza di forse cinquanta metri. Staccarst ed io ci precipitammo in suo aiuto e lo voltammo subito sul dorso. Ci bastò una semplice occhiata per capire che era moribondo. Non era possibile ingannarsi su quegli occhi vitrei, infossati, su quelle guance spaventosamente livide. Una scintilla di vita gli illuminò per un attimo il viso e, come ansioso di darci un avvertimento, mormorò due o tre parole. Parole confuse e indistinte, ma le ultime che mi giunsero all'orecchio, che gli sgorgarono come un urlo dalle labbra, furono la criniera di leone. Parole irrilevanti e senza senso, eppure quei suoni non potevano significare altro. Poi si alzò a mezzo, alzò le braccia al cielo e ricadde sul fianco, morto. Il mio compagno era rimasto paralizzato dall'orrore di quella scena, ma come si può ben immaginare, io avevo tutti i sensi allerta e ne avevo motivo, poiché presto apparve chiaro che ci trovavamo di fronte a qualcosa di eccezionale. L'uomo indossava soltanto il cappotto, i calzoni ed un paio di scarpe di tela slacciate. Cadendo, il cappotto che era solo appoggiato, scivolò via scoprendogli il torso, e noi lo guardammo sbalorditi. La schiena era coperta di striature rosse, come se fosse stato fustigato a sangue con una sferza di fil di ferro. E lo strumento con cui gli era stata inflitta quella tortura era evidentemente flessibile, come dimostravano le lunghe striature gonfie e sanguinanti che si curvavano sulle spalle e sulle costole. Un rivolo di sangue gli scorreva lungo il mento, poiché, nello spasimo dell'agonia, il disgraziato si era morsicato il labbro inferiore. Il suo viso sfigurato e sconvolto rivelava quanto dolorosi e terribili dovevano essere stati gli ultimi momenti. Io ero inginocchiato al canto al cadavere e Staccarst era in piedi quando un'ombra cadde su di noi e ci trovammo a fianco Ian Mardock. Mardock era il professore di matematica dell'istituto ed era un uomo alto, scuro di pelle, magro e talmente taciturno e solitario che nessuno aveva mai potuto vantarsi di essergli amico. Sembrava vivere in un mondo lontano ed astratto, di numeri razionali e di sezioni coniche, completamente isolato da qualsiasi forma di esistenza comune. Era considerato un tipo strambo dagli studenti che certamente ne avrebbero fatto il loro zimbello, se non ci fosse stato in lui chissà quale misterioso impasto di sangue straniero che si manifestava non solo nei suoi occhi di un nero carbone e nel suo viso bruno, ma anche in certi improvvisi scatti di collera che rasentavano addirittura la ferocia. Una volta, stufo delle moine di un cucciolo di proprietà di McPherson, aveva afferrato la bestiola e l'aveva scagliata attraverso una vetrata. Per un simile gesto, Stuckhurst lo avrebbe certamente licenziato se lui non fosse stato in realtà un insegnante di grande valore. Questo era dunque l'individuo strano e complesso che improvvisamente ci si parava davanti. Sembrò sinceramente colpito dal luttuoso incidente per quanto l'episodio del cane potesse lasciar supporre che tra lui e il morto non dovesse correre grande simpatia. «Poveretto, poveretto! Che cosa posso fare? Come posso esservi d'aiuto?» «Era con lui? Può dirci che cosa è successo?» «No, no, ero in ritardo questa mattina. Non sono sceso affatto alla spiaggia. Sono venuto direttamente da The Gables. Ma che cosa posso fare? Mi dica!» «Può andare subito alla stazione di polizia di Fullworth e riferire l'accaduto!» E senza una parola si allontanò in tutta fretta ed io presi in mano la situazione mentre Stuckhurst, attonito per la tragedia, rimaneva accanto al corpo. Per prima cosa naturalmente presi nota di chi era sulla spiaggia. Dalla cima del sentiero ne aveva avuto una visione panoramica ed era assolutamente deserta, tranne che per due o tre figure che si vedevano in distanza, dirette verso il villaggio di Fullworth. Mi avvicinai lentamente lungo il sentiero. Il fondo era di argilla morbida di marla mescolata a gesso e quella scorsi le stesse impronte di passi, sia in salita che in discesa. Nessuno era passato di lì per andare alla spiaggia quella mattina. Ad un certo punto, però, notai l'impronta di una mano aperta, con le dita rivolte verso il declivio. Questo poteva solo significare che il povero MacPherson era caduto mentre saliva. C'erano anche delle depressioni rotondeggianti, le quali facevano pensare che più di una volta fosse caduto sulle ginocchia, e alla fine del sentiero si stendeva l'ampia laguna lasciata dalle acque che si ritiravano. MacPherson si era spogliato lì accanto, dato che su una roccia c'era il suo asciugamano. Era piegato ed asciutto e sembrava, dopo tutto, che non fosse mai entrato in acqua. Un paio di volte, guardandomi attorno fra la ghiaia dura, vidi delle chiazze di sabbia che recavano l'impronta delle sue scarpe di tela e del piede nudo, il che dimostrava che era pronto per tuffarsi, anche se l'asciugamano stava a testimoniare che non lo aveva ancora fatto. Il problema era ormai ben definito, ed era uno fra i più strani che mi fosse mai capitato. L'uomo era rimasto alla spiaggia non più di un quarto d'ora al massimo. Stuckhurst l'aveva seguito da The Gables, quindi su questo non c'era dubbio. Era andato per fare un bagno e si era spogliato, come dimostrava l'impronta del piede nudo, poi si era ricoperto frettolosamente, gli abiti erano in disordine, non allacciati, ed era tornato indietro senza entrare nell'acqua o quantomeno senza asciugarsi. E il motivo per questo cambiamento di programma era stato il fatto che era stato fustigato in modo selvaggio, inumano, torturato, fino a fargli mordere il labbro nell'agonia e lasciandogli soltanto la forza sufficiente per trascinarsi via e morire. Chi era l'autore di un gesto così barbaro? C'erano effettivamente delle piccole grotte e delle cavità ai piedi della scogliera, ma il sole, basso sull'orizzonte, ne illuminava chiaramente l'interno e non c'era un posto dove nascondersi. C'erano quelle figure distanti sulla spiaggia, ma sembravano troppo lontane per aver commesso il crimine, e fra lui e loro si stendeva l'ampia laguna in cui MacPherson aveva avuto l'intenzione di fare il bagno che lambiva le rocce. Sul mare poco lontano si vedevano due o tre barche da pesca. Avremmo potuto esaminarne con calma gli occupanti. C'erano varie direzioni in cui indagare, ma nessuna molto promettente. Quando alla fine tornai presso il corpo, trovai che si era raccolta una piccola folla di curiosi. Stuckhurst naturalmente era ancora lì, e Ian Mardock era appena arrivato con Anderson, il poliziotto del villaggio che era un omone grande e grosso con i baffi rossicci, il tipico lento e solido contadino del Sussex, gente che sotto un aspetto pesante e silenzioso nasconde una notevole dose di buonsenso. Ascoltò ogni cosa, prese nota di tutto quanto gli dicemmo, e infine mi tirò da una parte. «Le sarò grato se vorrà aiutarmi con i suoi consigli, signor Onze. Questa è una faccenda troppo grossa perché me ne occupi da solo, e se sbaglio mi prenderò un rimbrotto da Lewis». Io gli suggerì di mandare ad avvertire subito il suo diretto superiore, nonché un medico, ed impedire che venisse rimosso alcunché, facendo altresì modo che si evitasse, sino al loro arrivo, di lasciare ulteriori impronte. Nel frattempo mi misi a frugare nelle tasche del morto. Mi trovai un fazzoletto, un grosso coltello e un piccolo portabiglietti da visita pieghevole, dal quale sporgeva un foglio di carta che spiegai e consegnai al poliziotto. Sopra vi era scritto, con una slanciata grafia femminile? «Verrò di sicuro, modi». Aveva l'aria di alludere ad un appuntamento amoroso, benché non fossero segnati né il luogo né l'ora dell'incontro. Il poliziotto lo ripose nel portabiglietti, che rimise, con gli altri oggetti, nelle tasche del cappotto della vittima. Dopodiché, non trovando altri elementi degni di nota da raccogliere, tornai a casa a fare colazione, non senza aver disposto un accurato esame alla base degli scogli. Staccarst mi raggiunse nel giro di un paio d'ore per dirmi che il cadavere era stato trasportato ai frontoni dove avrebbe avuto luogo l'inchiesta. Mi recava poi informazioni gravi e precise, come aveva previsto, nelle piccole grotte sotto gli scogli non era stato rinvenuto nulla, ma aveva esaminato le carte rimaste sullo scrittoio di McPherson e ne aveva alcune che rivelavano una corrispondenza intima con una certa signorina Maud Bellamy di Fullworth. Ci fu quindi facile stabilire l'identità della persona che aveva scritto il biglietto. «La polizia ha sequestrato le lettere», mi spiegò. «Ecco perché non ho potuto portargliele, ma non c'è dubbio che dovesse trattarsi di una faccenda amorosa e molto seria. Io però non ci vedo nessun nesso con l'orribile tragedia di questa mattina se non il fatto che la ragazza avesse fissato un appuntamento con lui». «Non credo, comunque, che l'appuntamento fosse in un'insenatura dove tutti noi abbiamo l'abitudine di fare il bagno», obiettai. «È una vera combinazione che molti studenti non si trovassero con McPherson», osservò Stuckhurst. «Ma è stata davvero una combinazione?» Stuckhurst aggrottò pensieroso le sopracciglia. «Ian Mardock li ha trattenuti», disse. «Si è incapponito su una qualche dimostrazione algebrica prima di colazione. Ah, povero diavolo, è sconvolto per questo». «Ma a quanto ho capito non erano molto amici». «Per un certo periodo no, ma da un anno o poco più a questa parte Mardock era vicino a McPherson nella misura in cui poteva essere vicino a qualcuno. Non è molto cordiale per natura, direi». «Già, così sembra. Mi pare di ricordare che una volta lei mi ha parlato di una lite circa dei maltrattamenti ad un cane». «Ah, quella è acqua passata». «Ma forse ha lasciato del rancore». «No, no, sono certo che fossero veramente amici». «Bene, allora dobbiamo esaminare la questione della ragazza. Lei la conosce?» «Oh, ma la conoscono tutti quanti. È la bellezza del villaggio». «Bella davvero, Holmes, una donna che attirerebbe ovunque l'attenzione». Sapevo che McPherson ne era attratto, ma non immaginavo che fosse arrivato al punto che queste lettere sembrerebbero indicare. «Ma chi è?» «È la figlia del vecchio Tom Bellamy, il proprietario di tutte le barche e i casotti di Fullworth. Ha cominciato facendo il pescatore, ma oggi è un uomo piuttosto ricco. Lui e suo figlio William mandano avanti l'impresa». «Vogliamo andare a Fullworth a trovarli?» «E con quale scusa?» «Ma una scusa è presto trovata. Dopotutto quel povero ragazzo non si è conciato da sé in quel modo spaventoso. Una mano umana reggeva quella sperza, se è stata effettivamente una sperza, ad infliggere quelle ferite». «In questo posto solitario, la cerchia delle sue conoscenze era sicuramente ristretta. Esaminiamola in ogni direzione e sicuramente scopriremo il movente che a sua volta ci porterà al criminale». Sarebbe stata una piacevole passeggiata attraverso le colline odorose di Timo, se la tragedia a cui avevamo assistito non ci avesse avvelenato la mente. Il villaggio di Fullworth si stende in una valle a semicerchio che circonda la baia. Dietro la zona più antica sono stati costruiti vari edifici moderni sull'altura, e appunto ad uno di questi edifici mi guidò Stakkarst. «Quello è Dieven, come l'ha chiamato Bellamy. Quello con la torretta ad angolo e il tetto a spioventi. Non male per uno che è venuto dal niente. O per Giove, guardatela!» Il cancello di Dieven si era aperto e ne era uscito un uomo. Non c'era da sbagliarsi su quella figura alta, spigolosa, dinoccolata. Era infatti Iammardo, il matematico. Un attimo dopo eravamo faccia a faccia per la strada. «Salve!» disse Stakkarst. L'uomo abbozzò un cenno di saluto con il capo, lanciandoci uno sguardo obliquo con quegli strani occhi scuri, e sarebbe passato oltre se il direttore non lo avesse fermato. «E cosa stava facendola?» gli domandò. Il viso di Mardok si imporporò di collere. «Sono un suo dipendente signore sotto il suo tetto, ma non mi risulta che debba renderle conto delle mie azioni private.» Ma dopo tutto quello che aveva sopportato, i nervi di Stakkarst erano a fior di pelle. Altrimenti, forse, avrebbe temporeggiato. Invece scattò all'istante. «Date le circostanze, la sua risposta è una pura e semplice impertinenza, signor Mardok.» «E io potrei dire altrettanto della sua domanda.» «Non è la prima volta che mi accade di notare il suo carattere spavaldo e ribelle. La prego di ritenersi libero da ogni impegno dei miei confronti da questo preciso istante e quanto più rapidamente le sarà possibile.» «È appunto quello che intendevo fare. Ho perso oggi la sola persona che rendesse frequentabile questo istituto.» Quindi si allontanò per la sua strada, mentre Stakkarst lo seguiva con uno sguardo infuriato. «Mi dica lei se quell'uomo non è insopportabile!» esclamò. L'unico punto che logicamente mi lasciò perplesso fu che il signor Mardok cogliesse la prima occasione propizia per allontanarsi dalla scena del delitto. Cominciò a profilarsi nella mia mente un sospetto, per quanto vago e nebuloso. Ma forse la visita ai Bellamy avrebbe gettato qualche luce sull'incidente. Stakkarst si ricompose e riprendemmo il nostro cammino verso la casa. Don Bellamy era un uomo di mezza età, con una barba rossa fiammeggiante. Sembrava di pessimo umore e ben presto la sua faccia parve infuocata come la sua chioma. «No, signore, non voglio sentire niente! Mio figlio!» ed indicò un giovanotto aitante, con un largo viso imbronciato che sedeva in un angolo del salotto. «È del mio stesso parere che le attenzioni del signor McPherson verso mia figlia Maud erano insultanti. Sì, signore, la parola matrimonio non è mai stata pronunciata, eppure c'è stato tutto uno scambio di lettere e di appuntamenti e forse di tante altre cose che io e mio figlio disapproviamo in pieno. La ragazza è senza madre e siamo noi i suoi unici tutori. Ora siamo ben decisi...» Ma la frase fu interrotta dall'ingresso della ragazza in persona. Non è esagerato dire che la sua presenza avrebbe alietato chiunque. Che si sarebbe immaginato che un fiore così raro potesse crescere da una simile radice e in un simile ambiente? Le donne mi hanno sempre interessato pochissimo, poiché il mio cuore è stato costantemente dominato dal cervello. Ma non potrei mai fare meno di ammirare quel volto perfetto, nitidamente cesellato, colorito di tutta la morbida e delicata freschezza dei dones e di comprendere che nessun uomo avrebbe potuto attraversare impunemente la sua strada. Questa era la ragazza che era apparsa sulla soglia della stanza e che si era fermata davanti a Staccarst, fissandolo con gli occhi attoniti e trasognanti. «So già che Fitzroy è morto», disse. «Non abbiate timore di raccontarmi i particolari della sua fine». «È stato quell'altro suo professore ad avvertirci», spiegò il padre. «Non c'è motivo che mia sorella sia coinvolta in questa faccenda», bofunchiò il giovane Bellamy. La ragazza si volse bruscamente a guardarlo e gli puntò addosso gli occhi fiammeggianti. «Questo è affar mio, William. Ti prego di lasciarmi agire come mi pare. Dopotutto è stato commesso un delitto e se potrò aiutare a scoprire il colpevole, sarà il meno che possa fare per lui». Ascoltò il breve riassunto che le fece il mio compagno con una pacata attenzione che mi dimostrò come, oltre ad essere molto bella, era anche una donna dal carattere forte. Ricorderò sempre, mod Bellamy, come una donna assolutamente completa ed eccezionale. Sembra che già mi conoscesse di vista perché alla fine del racconto si rivolse a me. «Li assicuri alla giustizia, signor Holmes. Chiunque essi siano, lei può contare su tutta la mia simpatia e tutto il mio aiuto». «Grazie», le risposi. «In cose del genere ho molta fiducia nell'intuito femminile. Lei ha usato il plurale «loro». Pensa che siano stati più di uno?». «Conoscevo abbastanza bene il signor McPherson da sapere che era un uomo forte e coraggioso. Una sola persona non avrebbe mai potuto infliggergli un oltraggio del genere». «Potrei parlarle in privato?» «Mood, ti ho già detto di non immischiarti in questa storia!» intervenne a dirato il padre, poi mi guardò con aria imponente. «Che cosa posso fare?» «Quanto prima, tutti saranno al corrente dei fatti, quindi possiamo anche parlarne qui», risposi. «Avrei preferito parlarne in separata sede, ma se suo padre non glielo permette, allora dovrà ascoltare anche lui». Accennai quindi al biglietto trovato nelle tasche del morto. «Senza dubbio verrà prodotto all'inchiesta. Posso chiederle se può illuminarmi in tal proposito?» «Non vedo il motivo di farne mistero», rispose. «Eravamo fidanzati e dovevamo sposarci, ma lo avevamo tenuto segreto perché lo zio di Fitzroy, che è molto anziano e pare che sia prossimo alla morte, avrebbe potuto diseredarlo se si fosse sposato contro la sua volontà. Questa era l'unica ragione». «Avresti potuto dircelo?» «Bruntolò il signor Bellami». «Lo avrei fatto, padre, se avessi mai mostrato un birriciolo di simpatia. Non mi va che mia figlia si metta con persone non del suo stesso livello». «È stato proprio questo tuo pregiudizio nei suoi confronti che ci ha trattenuto dal dirtelo. In quanto l'appuntamento...» E frugò nella tasca, traendone un foglietto gualcito. «Era la risposta a questo?» «Carissima», diceva il messaggio. «Il solito posto sulla spiaggia martedì subito dopo il tramonto. È l'unico momento in cui posso liberarmi. F.M.» «Martedì era oggi e avevo intenzione di incontrarmi con lui questa sera». Presi e osservai il retro del foglietto. «Non è venuto per posta. Come lo ha ricevuto?» «A questo preferirei non rispondere, ma non ha alcuna attinenza con la faccenda che lei sta investigando. Ad ogni altra domanda al proposito le risponderò con tutta sincerità». E infatti mantenne la parola, ma non seppe dirci nulla che potesse aiutarci nelle indagini. Non aveva motivo di ritenere che il suo fidanzato avesse, senza saperlo dei nemici, ma ammise che lei aveva avuto vari ardenti ammiratori. «Posso chiederle se il signor Ian Mardock era uno di loro?» E lei arrossì e parve confusa. «Ci fu un momento in cui pensai che lo fosse, ma cambiò tutto quando comprese quali rapporti ci fossero fra Fitzroy e me». L'ombra attorno a quello strano individuo sembrava assumere forme più decise. Bisognava scavare un po' nella sua vita, perquisire segretamente il suo appartamento. Stuckhurst era dispostissimo a collaborare perché anche nella sua mente stavano nascendo dei sospetti. Tornammo dalla nostra visita a The Heaven con la speranza di avere in mano un bandolo di quella ingarbugliata matassa. Trascorse una settimana. L'inchiesta non aveva fatto alcuna luce sulla faccenda ed era stata aggiornata in attesa di ulteriori prove. Stuckhurst aveva svolto qualche discreta indagine sul suo dipendente e il suo appartamento era stato sommariamente perquisito, ma senza nessun risultato. Personalmente avevo riesaminato tutti i fatti, materialmente e mentalmente, senza arrivare a nessuna nuova conclusione. Fra tutti i resoconti delle mie avventure, il lettore non ne troverà un'altra che mi abbia condotto così al limite delle mie capacità. Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a trovare una soluzione al mistero. Poi ci fu l'incidente del cane. Fu la mia padrona di casa ad averne notizia per prima, grazie a quello strano telefono senza fili che diffonde le notizie nelle comunità rurali. «Triste storia, signore, quella del cane di McPherson», mi disse una sera. Generalmente non incoraggio quel tipo di conversazioni, ma le sue parole colpirono la mia attenzione. «Che cos'è successo al cane di McPherson?» «È morto, signore, morto di dolore per la scomparsa del suo padrone». «E chi gliel'ha detto?» «Ne parlano tutti, signore. Era molto abbattuto e per una settimana ha rifiutato il cibo. Poi oggi due signori di The Gables l'hanno trovato morto. Morto sulla spiaggia, signore, proprio nello stesso punto dove è morto il suo padrone». «Nello stesso punto?» Quelle parole mi si scolpirono nella mente. Poi mi balenò alla mente la nebulosa percezione che si trattasse di una cosa di vitale importanza. Che il cane morisse rientrava in fondo nella leale e fedele natura dei cani, ma nello stesso punto? Perché quella spiaggia solitaria gli era stata fatale? Era forse possibile che anche la bestiola fosse stata sacrificata in nome di qualche faida di vendetta? Era possibile? Sì, la percezione era nebulosa, ma già qualcosa stava prendendo forma nella mia mente. Pochi minuti dopo ero sulla strada di The Gables e trovai Stuckhurst nel suo studio. Dietro mia richiesta mandò a chiamare Sudbury e Blount, i due studenti che avevano trovato il cane. «Sì, era proprio sul bordo della piscina», disse uno di loro. «Devi aver seguito le tracce del suo padrone defunto!» Vidi la bestiola, infine, un terriere ardella posato sul tappetino dell'ingresso. Il corpo era duro e irrigidito, gli occhi fuori dalle orbite, le membra contorte. Tutto denunciava una terribile agonia. Da The Gables mi recai alla piscina. Il sole era tramontato e l'ombra della scogliera si stendeva scura sull'acqua che aveva uno scintillio opaco, come una lastra di piombo. Il luogo era deserto e non c'era segno di vita, tranne due uccelli marini che volteggiavano in cerchio nel cielo, mandando alte grida. Alla tenue luce riusciva a intravedere l'impronta delle zampette del cane sulla sabbia, accanto alla roccia su cui era stato poggiato l'asciugamano del suo padrone. Rimasi a lungo assorto a riflettere mentre le ombre si infittivano attorno a me. I pensieri si rincorrevano nella mia mente. Immaginate che cosa significhi trovarsi in un incubo durante il quale sapete che lì c'è una cosa importantissima che state cercando e che sapete che è lì, ma non la riuscite a raggiungere. Così mi sentivo quella sera, solo in quel luogo di morte. Alla fine me ne tornai lentamente a casa. Ero appena arrivato in cima al sentiero, quando capii. Come un lampo ricordai qual era la cosa che avevo cercato così ansiosamente e così inutilmente. Voi certo saprete, o altrimenti il mio amico Watson avrà scritto in vano, che possiedo una vasta riserva di cognizioni insolite e bizzarre, senza alcun metodo scientifico ma sempre disponibili per le esigenze della mia professione. La mia mente è come un ripostiglio stipato di ogni sorta di pacchetti, tanti da averne io stesso un'idea molto vaga. Sentivo che c'era qualcosa che poteva collegarsi a questa faccenda, qualcosa di ancora vago ma che sapevo avrei finito col mettere a fuoco. Era un mostruoso, incredibile eppure possibile. Avrei controllato in tutti i modi possibili. Nella mia casa c'è un'ampia soffitta piena zeppe di libri e fu proprio in questa soffitta che rimasi per un'ora a frugare. Finalmente ne riemersi con un volumetto marrone e argento. Lo sfogliai ansiosamente fino al capitolo di cui servavo un vago ricordo. Sì, era un'ipotesi molto azzardata e poco probabile, ma non avrei avuto pace fin tanto che non avessi effettivamente appurato che era tale. Mi corcai molto tardi, con la mente già proiettata verso il lavoro che mi attendeva l'indomani, ma quel lavoro subì una fastidiosa interruzione. Avevo appena bevuto il mio tè e mi stavo avviando alla spiaggia quando arrivò l'ispettore Bardol del corpo di polizia del Sussex. Un uomo posato, solido, bovino, con degli occhi pensierosi che in quel momento mi guardavano con espressione molto preoccupata. «Conosco la sua immensa esperienza, signor Holmes», mi disse. «Naturalmente questo mio passo è del tutto ufficioso e probabilmente non ne uscirà nulla, ma veniamo al concreto. Devo oppure no effettuare un arresto». «Allude a Ian Marduk?» «Sì, signore. Francamente, a pensarci bene non si può sospettare nessun altro. Ecco il vantaggio di questa situazione. È facile restringere il caso ad una cerchia piccolissima. Se non è stato lui, chi può essere stato?» «Quali prove ha contro Marduk?» Bardol aveva spigolato lungo i miei stessi solchi. Marduk era indiziato soprattutto per il suo temperamento e per il mistero che sembrava circondarlo. Mi accennò ai suoi furiosi scoppi di collera, come era stato in occasione dell'incidente del cane. Vi era poi il fatto che in passato aveva litigato con McPherson e il sospetto che probabilmente le attenzioni del collega per la signorina Bellamy dovessero averlo ferito. L'ispettore, insomma, aveva raccolto i miei stessi dati, ma non mi recava alcun nuovo elemento, se non che la partenza di Marduk sembrava essere ormai imminente. «In che posizione mi troverei se me lo lasciassi scappare con tutti questi elementi a suo spavore?» Il grosso e flemmatico ispettore era evidentemente molto preoccupato. «Rifletta su tutte le lacune di fronte alle quali ci troviamo», replicai. Per quanto riguarda la mattina del delitto, Marduk ha un alibi sicuro. È rimasto con i suoi studenti sino all'ultimo momento e inoltre si è imbattuto in noi, arrivandoci alle spalle pochi minuti dopo la comparsa di McPherson. Consideri inoltre come sia matematicamente impossibile che abbia inflitto così gravi ferite ad un uomo che era forte tanto quanto lui. Rimane infine da chiarire la questione dello strumento usato per il supplizio. «Non potrebbe essere stata una sferza o una frusta flessibile?» «Ha osservato i segni?» replicai. «Li ho visti eccome e li ha visti anche il dottore. Ma li ha esaminati con una lente? Sono caratteristici?» «In che senso, signor Holmes?» Mi avvicinai alla scrivania e trassi da un cassetto una fotografia ingrandita. «Questo è il metodo che seguo in certi casi», spiegai. «Certo, lei fa le cose sul serio, signor Holmes». «Non sarei quello che sono se non facessi sul serio. Osservi ora questa ferita, tutta attorno alla spalla destra. Non ci trova nulla di speciale?» «Direi di no». «Osservi com'è disuguale nell'intensità. In questo punto c'è una goccia di sangue travasato e qui un'altra. In quest'altra ferita, più in basso, ci sono indicazioni simili. Che cosa può significare?» «Non saprei proprio. Lei che cosa ne pensa?» «Ancora non lo so, ma forse fra poco sarò in grado di dirle di più. Quando sapremo definire con esattezza lo strumento che ha prodotto queste scudisciate, saremo sulla buona strada verso l'identificazione del colpevole». «Capisco che è un'idea assurda», suggerì il poliziotto. «Ma se gli avessero messo sulle spalle a tradimento una rete di fil di ferro incandescente, questi segni più marcati rappresenterebbero il punto in cui le maglie si incrociano». «Il paragone è molto ingegnoso. Se si trattasse invece di un gatto a nove code molto rigido, terminato da piccoli nodi duri?» «Per giove, signor Holmes, credo che l'abbiamo indovinata». «La causa, però, potrebbe anche essere molto diversa, signor Braddell. Gli elementi che ha in mano sono troppo vaghi per permetterle di eseguire un arresto. Ci sono poi le ultime parole di quel povretto, la criniera di leone». «È sicuro di aver inteso bene?» «Sì, le ha pronunciate quasi urlando e sono sicuro di aver udito criniera di leone». «Sa suggerire una qualche soluzione, signor Holmes?» «Forse sì, ma non desidero discuterne sino a quando non avrò in mano qualche elemento più consistente». «E quando crede che sarà possibile?» «Tra un'ora, o forse anche meno». L'ispettore si massaggiò il mento e mi guardò con aria dubbiosa. «Vorrei poterle leggere nella mente, signor Holmes. Può darsi che quelle barche da pesca...» «No, no, erano troppo lontane». «Sospetta dunque di Bellamy e di quel suo ragazzone? Non erano troppo teneri nei confronti del povero McPherson? Crede che siano stati capaci di combinare una simile porcheria?» «È inutile che insista. Non mi caverà di bocca nulla sino a quando non sarò pronto», gli risposi con un sorriso. «E adesso, ispettore, abbiamo ciascuno il nostro lavoro da svolgere. Le dispiacerebbe tornare da me qui a casa mia verso mezzogiorno?» Eravamo a questo punto, quando fummo bruscamente interrotti dall'impressionante fatto nuovo che segnò il principio della fine. L'uscio di casa mia si spalancò. Nel corridoio risuonarono passi incerti ed ecco entrare nella mia stanza, pallido e scarmigliato Ian Mardock. I suoi abiti erano in un disordine incredibile e lui si aggrappava, con le mani ossute, ai mobili nel disperato tentativo di tenersi in piedi. «Cognac! Cognac!» balbettò, quindi con un gemito si abbatté sul divano. Non era da solo. Gli veniva dietro Staccarst, a capo scoperto e ansimante, sconvolto quasi quanto il suo compagno. «Sì, sì, un po' di cognac!» gridò a sua volta. «Sta per morire! È tanto se sono riuscito a portarlo fino a qui! È svenuto due volte lungo la strada!» Fortunatamente, un mezzo bicchiere del forte liquore operò un cambiamento miracoloso. Il giovane professore si tirò a sedere appoggiandosi ad un braccio e si strappò il mantello dalle spalle. «Per l'amor del cielo, datemi dell'olio, dell'opio, della morfina!» gridò. «Qualunque cosa, pur di plecare questo tormento infernale!» L'ispettore ed io lanciammo all'unisono un grido di stupore. Infatti, sulle spalle nude di Mardok era tracciato a zigzag lo stesso strano reticolo di rosse striature infiammate che avevano impresso sul dorso di Fitzroy MacPherson un identico marchio di morte. Il dolore fisico doveva essere spaventoso e non soltanto localizzato, poiché a tratti il respiro del paziente si interrompeva. Il suo volto si faceva cianotico e con forti ansiti si portava la mano al cuore, mentre dalla fronte cadevano grosse gocce di sudore. Poteva morire da un momento all'altro. Gli versamo in gola dell'altro cognac e ad ogni nuovo sorso pareva che la vita rifluisse in lui. Il zuppammo batuffoli di cotone idrofilo in olio d'oliva e questo parve sollevarlo alquanto dal bruciore delle misteriose ferite. Infine lasciò ricadere pesantemente il capo sul cuscino. La natura, esausta, si era rifugiata nella sua ultima riserva di vitalità. Non era proprio sonno il suo, era in parte svenimento, ma quantomeno lui era libero dal dolore. Era stato naturalmente impossibile interrogarlo, ma non appena ci fummo un poco tranquillizzati sulle sue condizioni, Staccarst si rivolse verso di me. «Mio Dio!» esclamò. «Che cos'è, Holmes? Di che cosa si tratta? Dove lo hai trovato? Giù alla spiaggia, esattamente dove è morto il povero MacPherson. Se avesse avuto il cuore debole quanto il suo, a quest'ora non sarebbe qui. Mentre lo portavo su più di una volta, ho pensato che fosse morto. The Gables era troppo lontano, quindi l'ho portato qui da lei.» «Lo ha visto sulla spiaggia?» «Stavo camminando sulla scogliera quando l'ho sentito gridare. Era al bordo dell'acqua, barcollando come un ubriaco. Sono corso giù, l'ho coperto alla meno peggio e l'ho riportato su. Per l'amor del cielo, Holmes, usi tutta la sua abilità e faccia il possibile e anche l'impossibile per eliminare la maledizione da questo posto, perché la vita sta diventando insopportabile. Lei, che è famosa in tutto il mondo, non può fare nulla per aiutarci.» «Credo di poter fare qualcosa, Staccarst. Adesso venga con me. E anche lei, ispettore. Vediamo se non si riesce a consegnare questo assassino nelle sue mani.» Lasciando l'uomo svenuto alle cure della mia padrona di casa, scendemmo tutti e tre alla fatale laguna. Sulla ghiaia c'era un mucchietto di asciugamani e abiti lasciati dal frito. Camminai lentamente lungo il bordo dell'acqua, seguito dai miei compagni in fila indiana. Lo stagno era in genere poco profondo, ma sotto la scogliera, dove la spiaggia era erosa, aveva una profondità di quattro o cinque piedi. E un notatore si sarebbe sicuramente diretto da quella parte, che appariva come una laguna verde e trasparente, limpida come il cristallo. Una striscia di rocce la sormontava alla base della scogliera e mi avventurai lungo di essa, scrutando attentamente le acque profonde sotto di me. Ero arrivato dove l'acqua era più profonda e più tranquilla, quando i miei occhi scorsero quello che stavo cercando, e lanciai un grido di trionfo. «Sayenna!» esclamai. «Sayenna! Guardate! La criniera di leone!» La strana cosa che indicavo somigliava in effetti ad una massa arruffata strappata dalla criniera di un leone. Giaceva su una piattaforma di roccia a circa tre piedi sotto il livello dell'acqua, una strana creatura, ondulante, vibrante, pelosa, con delle ciocche argente fra la chioma gialla. Pulsava lentamente, dilatandosi e contraendosi. «Ha fatto abbastanza male, ma ora ha finito!» esclamai. «Mi aiuti, Staccarst! Eliminiamo una volta per sempre questa assassina!» Proprio sopra il bordo di roccia, c'era un enorme masso che spingemmo fino a farlo precipitare nell'acqua con un grande tonfo fra gli spruzzi di spuma. Quando lo specchio d'acqua tornò tranquillo, vedemmo che si era adagiato sulla piattaforma sotto di noi. Un bordo ondulante di membrana gialla indicava che la nostra vittima era rimasta sotto la pietra, e una schiuma densa e oleosa salì lentamente alla superficie, scurando l'acqua all'intorno. «Bene, questa poi!» esclamò l'ispettore. «Che cos'era, signor Holmes? Sono nato e cresciuto da queste parti, ma non avevo mai visto una cosa del genere. Non appartiene al Sussex!» «Tanto meglio per il Sussex!» commentai. «Forse l'hanno spinta fin qui le raffiche del vento da sud-ovest. Venite a casa mia tutti e due e ascolterete la terribile esperienza di chi ha buoni motivi per ricordare il suo incontro con questo pericolo dei mari.» Arrivati allo studio, troviamo che Mardok si era ripreso abbastanza da mettersi seduto. Era ancora stordito e ogni tanto era scosso da un parossismo di dolore, ma con parole rotte spiegò che non aveva idea di cosa gli fosse capitato, tranne che all'improvviso aveva provato un dolore lancinante e che gli ci era voluta tutta la sua forza d'animo per raggiungere la riva. «Ecco un libro», dissi, mostrando il volumento, «che per primo fece luce su quello che altrimenti avrebbe potuto rimanere per sempre un mistero. È intitolato Out of Doors, all'aria aperta, ed è stato scritto da un famoso naturalista, J.G. Wood. Lui stesso per poco non ci rimise la vita venendo in contatto con questa bietta creatura e quindi ne ha scritto con cognizione di causa. Saianea capillata è il nome scientifico di questo potenziale assassino capace di uccidere quanto il morso di un cobra e molto più dolorosamente. Lasciate che ve ne legga qualche riga. Se un bagnante dovesse scorgere in acqua una massa di membrane e filamenti di color fulvo simili a peli strappati dalla criniera di un leone mescolate a carta argentata, stia molto attento perché si tratta della saianea capillata, il cui contatto è urticante e mortale. Quale miglior descrizione della sinistra creatura che avevamo appena incontrata? Wood prosegue narrando il suo scontro con una di esse mentre nuotava a largo della costa del Kent. Scoprì che quella creatura irraggiava dei filamenti pressoché invisibili alla distanza di 50 piedi e che chiunque si trovasse in quel raggio era in pericolo di morte. Anche a distanza l'effetto su Wood per poco non fu fatale. Quei numerosi filamenti procurarono delle sottili striature scarlatte sulla sua pelle che ad un esame più attento si rivelarono composte di minuscoli puntini o pustole, ciascuna armata per così dire, di un ago incandescente che attraverso l'epidermide penetrava nei nervi. Il dolore locale, come egli spiega, è il meno di quel tormento. Sentii delle trafitture al petto per cui caddi, come colpito da un proiettile. Ogni tanto le pulsazioni si arrestavano e il cuore dava sei o sette balzi, quasi a volermi uscire dal petto. Quasi ci rimise la vita, anche se era stato esposto a quel contatto nell'acqua mossa dell'oceano e non in quella immobile e tranquilla di uno stagno. Racconta che in seguito stentò a riconoscersi, tanto cerea, raggrinzita e dissecata era la sua faccia. Mandò giù del brandy una bottiglia intera e sembra che quello gli salvò la vita. Ecco a lei il libro, ispettore. Lo lascio a lei e stia certo che in esso troverà completamente spiegata la tragedia del povero McPherson. E fra parentesi scagiona me, osservò Ian Mardock con un risolino forzato. Non la biasimo, ispettore, né biasimo lei, signor Holmes, perché i vostri sospetti erano del tutto naturali. Credo che proprio alla vigilia del mio arresto sono riuscito a discolparmi soltanto condividendo il destino del mio povero amico. No, signor Mardock, ero già sulla buona strada e se fossi uscito presto, come mi ero prefisso, le avrei probabilmente potuto risparmiare questa orribile esperienza. Ma come lo sapeva, signor Holmes? Sono un lettore onnivoro, con una strana memoria per i particolari di poco conto. Quella frase, la criniera di leone, mi martellava nella mente. Sapevo di averla letta da qualche parte in un contesto totalmente differente. Avete visto come descrive perfettamente quell'essere. Sono certo che galleggiava a pelo d'acqua quando MacPherson la vide e che quelle sue parole erano le uniche con le quali potesse metterci in guardia contro la causa della sua morte. Bene, io almeno sono scagionato, disse Mardock alzandosi lentamente in piedi. Dovrei solo fornire qualche parola di spiegazione, poiché sono al corrente dell'orientamento da voi seguito nell'inchiesta. È vero che ero innamorato della signorina Bellamy, ma dal giorno in cui avevo saputo che aveva scelto il mio amico MacPherson, il mio unico desiderio è stato quello di aiutarla a raggiungere la felicità. Sono stato ben lieto di farmi da parte e di fungere da intermediario tra di loro. Ero io molte volte a recapitare i loro messaggi e appunto perché ero al corrente del loro segreto e perché mi era così cara, mi sono affrettato ad avvertirla della morte del mio amico, per timore che qualcuno mi precedesse e glielo annunciasse in modo brutale. La signorina Maud non ha voluto parlarvi dei nostri rapporti per timore che disapprovaste la cosa e che io avessi a soffrirne. Ma se non ha nulla in contrario, signor Holmes, vorrei rientrare all'istituto, poiché in questo momento non desidero nulla all'infuori del mio letto. Stuckhurst gli tese la mano. I nostri nervi sono stati tesi come corde di violino, disse. Dimentichi il passato, Mardok. In futuro ci capiremo molto meglio. E uscirono insieme sotto braccio da buoni amici. L'ispettore rimase a guardarmi in silenzio con quei suoi occhi bovini. Beh, ce l'ha fatta! Esclamò alla fine. Avevo letto di lei, ma non ci avevo mai creduto. È fantastico! Fui costretto a fare un cenno di diniego con il capo. Accettare una lode del genere voleva dire abbassare il proprio livello. All'inizio sono stato lento, deplorevolmente lento. Se il corpo fosse stato trovato nell'acqua mi sarei certamente reso conto della situazione, ma fu l'asciugamano a portarmi fuori strada. Quel povero ragazzo non aveva nemmeno pensato ad asciugarsi, mentre io fui indotto a credere che non fosse mai entrato in acqua. Come potevo quindi pensare all'aggressione di un animale acquatico, ed è qui che ho sbagliato. Bene bene, ispettore, spesso mi sono permesso di irritarmi con voi signori della polizia, ma per poco la seienna capillata non ha vendicato Scotland Yard. Grazie per l'ascolto. Se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri, puoi fare una piccola donazione su PayPal o Ko-Fi tramite il link che trovi in descrizione. Inoltre, se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro, puoi trovarli anche su Spreaker, Spotify ed Apple Podcast. Grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto.